La sensazione è che ricucire la spaccatura all'interno del PD regionale pescarese sarà molto più doloroso e difficile di quanto non sia stato mettere dei punti di sutura sul rapporto con la liste a Todoro al comune di Pescara. Le parole di Donato Di Matteo I e di Giuliano Deodati poi, dopo il siluramento dell'ormai ex assessore al bilancio del comune pescarese, pesano e sono macigni scagliati contro i vertici dei democratici a tutti i livelli. Ieri a prendere posizione dopo la conferenza stampa dell'ala di Matteiana del PD è stato direttamente il segretario regionale Marco Rapino, che in una nota, sottolineato come il sindaco Alessandrini, invitato da Di Matteo a dimettersi, si sia fatto carico di una richiesta che proveniva direttamente dal PD e dal suo gruppo consigliare. Per Rapino il Partito Democratico non deve in alcun modo risolvere i propri problemi interni attraverso la strumentalizzazione di fatti che risultano incomprensibili per i cittadini. Gli fa eco il segretario del PD di Pescara Moreno di Pietrantonio, accusato di dilettantismo politico da Giuliano Deodati. Adesso questa cosa mi fa un po' sorridere, ma mi fa sorridere perché capisco il momento di delusione e di amarezza che aveva Di Odati, non c'è stato nessun atteggiamento direttantistico, tutta l'operazione è stata condotta ai massimi vertici del PD con il segretario regionale, con il sindaco, con il capogruppo e con il segretario del partito di Pescara. C'è stato solo fino alla fine il tentativo di riuscire a salvare, non solo Deodati, ma tutta l'operazione con minore danno possibile. Però abbiamo sempre avuto un obiettivo, quello di ricreare una coalizione forte, capace di portare avanti i progetti e i programmi per questa città. E quindi siamo dovuti per forza soprassedere alle problematiche esclusivamente personali. Sul caos seguito all'impasto di giunta si inserisce anche l'opposizione con il segretario pescaresi di Forza Italia, Guido Cerolini, che commenta l'assurda e grottesca telenovela che ha determinato le stromissioni di Deodati dalla giunta comunale, restituisce l'immagine di un sindaco Alessandrini che nelle vesti di un novello Ponzio Pilato si è affacciato alla finestra e ha lasciato che fosse la politica a decidere. Cerolini esprime all'assessore Deodati la piena solidarietà per il lavoro svolto negli ultimi tre anni a servizio della città, prima alla guida di un assessorato tutt'altro che facile come le politiche sociali, poi come delegato alle finanze e allo sport. Intanto l'assessore in pector e Gianni Teodoro sarebbe già a lavoro nonostante non sia stato ancora ufficializzato il suo ingresso all'interno della giunta. Per lui in arrivo deleghe pesanti come quelle alle politiche abitative, un tema sempre scottante nel capoluogo adriatico.